Scegli il filmato Wow, pare che questo tipo abbia una passione per le infermiere Sono brave persone, ok? Aiutano la gente Pensiamo a farti divertire, signorito Mi divertirò senz'altro Perfetto Il tuo sogno comincia Fermi! Mani in atto! Ho detto fermi! In alto quelle mani Cosa dobbiamo fare, alzare le mani o stare fermi? Chiudi il becco delinquente Britney, perquisisci Sta zitto! Oh mio Dio! Le vostre uniformi sono regolamentari A tutte le unità, dirigentemi verso subito Le agenti Amanda e Shona sono attenti al primo piano Per il rilascio del primo piano Vi ci abituerete Puttanelle Non fatevi troppo male Non fatevi troppo male Aspetta un attimo Scappiamo, togli! Briga, ti dai! Ma scusi Questa è un sogno Questa è un sogno Questa è un sogno Chi è la più bagnata? Brandi o Mandy? Oh, ahaha Fai giocare anche a me Uh, sei tu la più bagnata Quella è Bambi Per considerare seriamente la possibilità Che non esistiamo più sulla Terra Forse siamo morti fulminati nella cabina Questa è un sogno Per il rilascio del primo piano Per il rilascio del primo piano Per il rilascio del primo piano Grazie.